Buongiorno, sono Emanuele, seri della SIC Altoparlanti, in azienda mi occupo della ricerca e sviluppo. Siamo qui alla fiera di Francoforte, abbiamo portato alcune novità come il 21 pollici per un'applicazione subwoofer, abbiamo sviluppato una nuova serie di altoparlanti per lo studio monitor e abbiamo anche accompagnato questa serie con dei twitter di nuovo sviluppo. Siamo a Metafira, circa oggi venerdì, l'affluenza è buona, molta gente interessata, il clima che si respira è decisamente positivo, nonostante la crisi che si respira in giro, quindi speriamo in un futuro dove ci sia una bella ripresa e le cose vadano meglio.